Innanzitutto, essendo la prima partita, intanto buongiorno a tutti, cose che sappiamo su CXR sono poche perché non ci sono partite in video disponibili e quindi cercate un po' di guardare qualcosa dell'anno scorso, non so quanto possa essere attendibile se alcune cose che volete come possibili cambiamenti. Non ci sono molte match-uri al video che si era di questo anno, ma ne abbiamo guardato l'anno scorso e non so quanto sono di buone, perché non si sono schimati molti giocatori, altre ore a rimasci, ma ne abbiamo guardato l'anno scorso e ci sono un po' di più che le sappiamo.